Se vogliamo partire nel ramo del web, fra poco in collegamento con noi c'è Nicolò Siciliani che è un esperto professionista del web che potrà dirci un po' di cose riguardo a tutto. Nel frattempo vediamo se è collegato, io saluto tutti voi che siete qui e ecco Nicolò, invio ricchi di asile, fra poco è con noi Nicolò Siciliani. esperto del web, come dicevo. Eccolo Nicolò, grazie per aver veramente accettato l'invito. Sei in Brasile, ti vedo anche un po' abbronzato, ci stai facendo un po' rosicare vorrei dirti. Ma qui fa caldo veramente, oggi sono 38 gradi, farti capire? Che meraviglia, che meraviglia, veramente. Il caldo che fa, io mi sono adesso fatto la doccia, non so se sono ancora bagnato o sudato. Benissimo, però va bene, ti stai godendo il bellissimo clima brasiliano. In che parte del Brasile sei? Allora Elena, io sono vicinissimo all'Amazzonia. Sono praticamente al centro del Sud America, in uno stato che si chiama Almato Grosso. Ed è uno stato meraviglioso, cioè una natura incredibile, indescrivibile. Bene, mandami un po' di foto perché come sai io non ho più niente, non ho più i miei amici, non ho più nessuno e tutti gli amici sono ai social. Infatti ritorniamo al tuo mestiere che devo dire che in questo momento i social, il web ha cambiato le nostre vite, infatti in questo momento ancora di più. Allora, diciamo che tu ti definisci un, ti definisci un, praticamente un giovane pubblicitario vecchio stampo, io qualcosa me lo sono dovuto scrivere perché, del nuovo millennio. Che vuol dire? Spiegaci. Allora Elena, il discorso è molto interessante perché, come dici te, questa professione di social media manager, che è una professione che va molto di moda adesso, perché tutti quanti ormai viviamo giornalmente sui social, chi su Facebook, chi su Instagram, chi su TikTok. In realtà noi non ci siamo inventati niente, nel senso che la nostra professione è nata circa 70 anni fa, è nata in America intorno agli anni 50, perché? Perché la professione del pubblicitario, noi siamo dei pubblicitari, cos'è che è cambiato rispetto a 70 anni fa? Gli strumenti, però oggi noi facciamo pubblicità sui social, prima facevano pubblicità su le lettere che mandavano a casa, i giornali, i quotidiani, la cartellistica, certo. Quindi le regole della pubblicità sono le stesse. Io infatti ti ho portato questo che è il mio manuale, questa è la mia biblia, è un libro che si chiama Confessione di un pubblicitario. E lo consigli a chi magari vuole fare il tuo lavoro? Assolutamente sì, tutto quello che diceva lui 70 anni fa è valido oggi. Ma infatti non ci sentiamo niente, non è che... Senti Nicolò, quindi raccontaci un po' di te, qual è la tua professione, proprio in poche parole, così poi andiamo a dare un po' di consigli utili. Allora, la mia professione, come ti ho detto, è quella del pubblicitario, che potremmo definire un po' meglio definendola un marketer, cioè chi è un marketer? È una persona che, trovato ed individuato un mercato, che è formato da persone che hanno un bisogno o hanno degli interessi, hanno bisogno di prodotti e servizi per fare che cosa? Per esaudire appunto i loro bisogni. Di conseguenza che fa il marketer? Matcha questi due mondi, da una parte il consumatore e dall'altra un prodotto o un servizio. Come fa a matcharlo? Attraverso la comunicazione, quindi attraverso la pubblicità. Quindi l'obiettivo oggi, ancora di più rispetto a anni fa, è quello di differentiarsi rispetto ai competitors, perché siamo bombardati di pubblicità ogni giorno. Per ogni singolo bisogno abbiamo dieci soluzioni, dieci aziende che propongono la loro soluzione. Quindi l'obiettivo nostro è essere più bravi dei marketer, della concorrenza, nel differenziare il messaggio comunicativo. Senti Nicolò, che cos'è che io ci ho messo cinque anni per imparare solo a pronunciare questa parola? Che cos'è l'algoritmo delle sponsorizzate, le famose ads, che io per anni oggi chiamavo ads, ads di Facebook? Come funzionano? Comincia a dare quei consigli utili che chi ci sta ascoltando e oggi abbiamo veramente un super pubblico? Che cosa vogliono dire? Allora, guarda Elena, il discorso è questo. Le sponsorizzate a che cosa servono? Servono per sfruttare i social in maniera più veloce, in maniera più potente. Perché? Perché noi attraverso i social possiamo vendere, ovvero possiamo raggiungere delle persone e mostrargli i nostri prodotti e servizi. Soltanto che grazie alle sponsorizzate questo processo è facilitato. Perché noi attraverso un investimento, cioè noi paghiamo Zuckerberg, questa persona che ci ha stravolto la vita, che è il proprietario di Facebook e di Instagram e di WhatsApp, noi lo paghiamo per dire, guarda signor Zuckerberg, io ho questo messaggio pubblicitario. Me lo fai vedere per favore a questo tipo di persona? Perché io lo voglio far vedere a tante persone, io lo voglio far vedere subito, io lo voglio far vedere più volte. E quindi Facebook dice non c'è problema, caccia i soldini e io te lo faccio vedere. Però lì c'è anche una strategia che io da clienti tua posso dire che praticamente anche lì c'è una strategia. E nel caso mio, mi accorgo che ho fatto l'ultima fiction e tu hai dato un po' il messaggio ai social, utilizzavi magari più la Campania anziché di un'altra regione. Ragionamente è questo, e questo è uno dei punti di forza del marketing online digitale rispetto a quello vecchio stampo. Ovvero che noi attraverso la pubblicità digitale fatta su Facebook e su Instagram possiamo raggiungere un target veramente specifico. Che cosa vuol dire veramente specifico? Veramente possiamo spaccare il capello in quattro, come definisco io. Ovvero noi possiamo addirittura far vedere una pubblicità soltanto ad un quartiere di Napoli. Quindi tu che sei una piccola pizzeria di Napoli e te sei meglio di me, Elena, quante pizzerie a Napoli ci sono e sono tutte una più buona e l'altra. Non vai a fare la pubblicità del delivery su tutta Napoli. Magari te la vai a fare soltanto su quel quartiere specifico dove tu sei il punto di riferimento, dove le persone sanno che tu arriverai dopo cinque minuti, dopo dieci minuti, non dopo un'ora e mezza. Di conseguenza questo strumento di targetizzazione così dettagliata e precisa ha stravolto il settore. E l'altra cosa pazzesca è che appunto adesso tantissime imprese molto molto piccole possono fare pubblicità. Quindi che ha fatto Zuckerberg? Si è andato a prendere una sorta di migliaia e migliaia di piccoli imprenditori che con i loro 100, 200, 300 euro spendono di più del big compagnia la Coca Cola, la Pepsi. Perché? Perché loro spendono miliardi ovviamente. Ma qui parliamo di milioni di persone che spendono mille euro. Certo. Che prima non potevano farlo. Ma l'algoritmo cos'è questo? L'algoritmo che cos'è? L'algoritmo sono tutte quelle strategie che noi andiamo a fare per cercare di ottenere il massimo da queste sponsorizzate. Quindi l'algoritmo permette a noi inserzionisti di poter raggiungere il target esattamente che vogliamo raggiungere. Di conseguenza che cosa ci dice Facebook per esempio? Che cosa fa l'algoritmo di Facebook? Se la nostra pubblicità non piace alle persone, cosa fanno le persone? Dicono a Facebook guarda che non mi piace questa pubblicità. Di conseguenza l'algoritmo che fa? Ti penalizza la sponsorizzata. Quindi se tu hai fatto una sponsorizzata volgare o non l'hai fatta al target di riferimento, l'algoritmo ti dice guarda a me questa pubblicità non mi piace. Quindi o tu mi paghi di più per farla vedere a queste persone oppure io faccio vedere quella del tuo competitor perché quella sta piacendo. Addirittura, addirittura. Allora adesso arriviamo alla domanda che secondo me voglio vedere 800 numeri in più in questo momento sul mio display anche perché sto lavorando con Serena. Guarda grazie a Serena il tuo team eccezionale veramente da 18 ore per poter fare in questa diretta grazie al regalo che mi ha dato praticamente il telefonino. Come? Come aumentare i follower sui social? È arrivata! È arrivata! È questa che dobbiamo darla. È un regalo che dobbiamo farlo. Siamo a Natale. Dammi solo un secondo Elena perché mi hai ricordato una cosa. Io devo ringraziare tantissimo tutto il mio team perché veramente senza di loro io non sarei nessuno. Quindi ringrazio Serena che sta lì con te. Ringrazio Alessandro. Ringrazio Sara. Ringrazio Francesco, Valerio, Nicolò e soprattutto ringrazio partner speciali come te Elena che ci permettono ogni giorno di dare il nostro contributo a questa società perché ci date un senso di vivere. Quindi grazie mille. È vero, grazie Elena. Eh, dai, noi. Andiamo avanti, dai. Che cos'è? Come si fa a crescere sui social? Come si fa a crescere di followers? Allora, il primo ragionamento Elena che voglio fare prima di darvi tattiche e trucchetti perché ci sono tattiche e trucchetti che sono piccole azioni che noi possiamo fare. Però ci sono due ragionamenti di fondo che sono ancora più importanti di queste tattiche e trucchetti. Ovvero, il primo ragionamento è ma è così essenziale avere tanti followers? È così importante? Noi ad oggi che cosa diciamo? Diciamo che è molto meglio avere una pagina che ha diecimila followers ma che tutti sono realmente in target e interessati a quello che dici rispetto a una di cinquantamila che è stata letteralmente sporcata da persone che non gli interessa quello che dici. Perché? Perché a quel punto quando c'è un pubblico così ampio che non gli interessano i tuoi contenuti, Instagram con il suo algoritmo ti penalizza. Perché tu posti i contenuti, le persone per il rapporto che ci sono, per cinquantamila, non mettono tanti like e quindi Instagram capisce che la tua pagina è scadente, che i tuoi contenuti non valgono niente e quindi ti fa sparire. Non vedrà più nessuno i tuoi contenuti. D'accordo? Perché sono comprati? O sono comprati oppure si sono mischiati. La maggior parte delle volte sono comprati, cosa sbagliatissima. Andarsi a comprare followers che vengono dall'Asia è prima di tutto sbagliato e secondo è una delle più grandi truffe che fanno persone che fanno il mio lavoro ma lo fanno senza un'etica. Adesso andiamo a vedere un po' di strategie truffiche. La prima regola per crescere su followers è puntare ad un pubblico specifico e devi spiegargli che tu sei esattamente la pagina che parla dei contenuti che lui vuole vedere. Ti faccio un esempio mio, pratico, da utente, non da lavoratore, da utente. Io sono appassionato di calcio e sono appassionato del calcio storico. Sono appassionato della Lazio ma sono appassionato anche di tutte quelle storie, degli aneddoti legati al calcio. Per esempio ne abbiamo parlato tanti. Nicolò Saturno e Giove ci metti a dura prova. Vai, vai. Sono sicura che le persone si ricollegheranno. Vai. Stavamo dicendo Elena quindi è fondamentale andare a mostrare contenuti realmente interessanti per una tipologia di persona molto specifica. Questo è fondamentale. Stavi facendo un esempio? Stavi facendo un esempio e poi è caduta la linea. Esempio mio per esempio appassionato di calcio, e sto facendo un esempio di Maradona. Sai quanto ne abbiamo parlato in queste settimane? Sì. Tutte le pagine che mi mostravano dei contenuti di Maradona realmente interessanti, quindi aneddoti, sono uscite fuori delle cose pazzesche. A me mi scaldavano il cuore e mi coinvolgevano tantissimo. Quindi cosa hanno fatto quelle persone? Sono andate realmente a mostrare dei contenuti di valore a persone che ne sono interessate. Di conseguenza questo è quello che dobbiamo fare, se vogliamo crescere su Instagram. Dobbiamo capire esattamente chi è il nostro target, che cosa piace al nostro target, che cosa fa, a che ora è sveglio, a che ora è su Instagram, quali sono i contenuti che gli scaldano il cuore. Dobbiamo parlare soltanto a loro. Questo è fondamentale. Mi viene da ridere perché mi immagino che io lo sai quanto sono stata purtroppo una negatissima, e lo sono tuttora, anche se insomma credo di aver fatto grazie a te, dei passi da gigante. Praticamente immaginati che la mattina mi metto con la telecamera e faccio colazione, è ovvio che a quel punto aumenti i followers. Ma per un target medio, per chi praticamente non ha tutto questo tempo a disposizione, ho visto che hai postato magari un numero, un tot. Diamo qualche tattica, quindi qualche cosa di pratico che si può fare. Allora, innanzitutto ad oggi bisogna lavorare con i Reels. Che cosa sono i Reels? Sono questi video veloci di 30 secondi e Instagram gli ha dato una sezione apposita, oltre che nella sezione classica dove noi andiamo a postare le foto e i video. Perché bisogna puntare sui Reels? Perché sono il contenuto che Instagram ha messo a disposizione per i suoi utenti per contrastare la crescita esponenziale di TikTok. Questo social che tu ormai hai imparato a conoscere, perché abbiamo cominciato a fare TikTok facendo una crescita molto importante, poi magari ne parliamo, sta esplodendo, che è quindi il principale competitor di Instagram. Quindi Instagram ha copiato il format dei TikTok e l'ha proposto. Di conseguenza Instagram è contento e molto felice quando vede che un utente inserisce un Reels, perché è convinto che così facendo le persone si scordano di TikTok e dicono ok, quindi i TikTok stanno dentro Instagram, non c'è più bisogno di TikTok. Quindi competizione tra di loro. Esatto. Quindi ti dà il massimo della visibilità quando tu metti un TikTok, quando tu metti un Reels. Ok? Immagina di che da 1 a 10, quando posti un Reels ti dà visibilità 10. Mentre quando posti una foto normale te ne dà 5. Quindi questo è un perimo suggerimento. Grazie, grazie Nicolo. Bisogna essere costanti, nel senso che quando io vedo persone che vogliono crescere su Instagram, ma poi si mettono e si impegnano tre giorni e poi abbandonano per due settimane, è impossibile crescere in questo modo su Instagram. Dobbiamo essere costanti, dobbiamo stare lì sul pezzo, realizzare tante stories, postare, andare a vedere che cosa piace ai nostri contenuti, ai nostri followers, rimanere sempre in aggiornamento, testare sempre nuove cose, cambiare. Quindi questi sono i suggerimenti per crescere con i followers. Che cosa consigli ai giovani che praticamente adesso scendo perché veramente insomma ho fatto un po' ho fatto un po' la un po' di così diciamo ho colorato un po' questa diretta per non far annoiare le persone per diciamo per il poco segnale. Cosa suggerisci ai giovani e ai meno giovani che vogliono intraprendere la tua carriera? E io aggiungerei anche ai clienti che eventualmente si volessero rivolgere a te. Allora partiamo dai clienti. Allora la prima cosa che io suggerisco ai clienti quando si approcciano alla mia professione, quindi stanno cercando una persona, un'agenzia che possa aiutarli in digital marketing, è cercare quello che è un mix tra le qualità di una persona più grande con le qualità che è una persona più giovane e mi spiego. Infatti perché ad oggi è una professione dove i giovani hanno una marcia in più. Perché? Perché i giovani sono cresciuti con questi strumenti. Quindi un ragazzo che ha vent'anni, venticinque anni conosce realmente bene quelli che sono questi strumenti. Magari un professionista della pubblicità o del marketing che è più grande probabilmente si è dovuto riadattare. Di conseguenza è più difficile per lui poter conoscere realmente bene questi strumenti. Però qual è il punto di forza di una persona che è un professionista che ha 35, 40, 45 anni? È la professionalità. È la professionalità che ha imparato con gli anni di lavoro. Quindi il consiglio che io do è quello di cercare quindi dei ragazzi di 25, 30 anni che però lavorano come lavorano i professionisti che hanno qualche anno in più. Ovvero con quella professionalità che purtroppo non tutti i ragazzi di 20 anni ha. Dopodiché consiglio di non andarsi a fidare di persone che in realtà fanno un altro lavoro. Perché è pieno, veramente è pieno di persone che magari sono dei fotografi bravissimi o magari sono dei videomaker fenomenali ma che in realtà non sono dei marketers, in realtà non sono dei pubblicitari. Di conseguenza loro non potranno farti realmente una strategia di marketing di social media perché si intendono di foto e di video che fanno parte della strategia ma è una di altre dieci cose che servono per fare una strategia di marketing pubblicitaria online. Certo, certo. Senti Riccolò, vai volevi dire qualche altra cosa? Sì, ai ragazzi o ai meno giovani il consiglio che do è sicuramente io utilizzo un termine simpatico che è smanettare. Cioè noi dobbiamo smanettare perché essendo appunto un lavoro fatto in maniera digitale noi nel digitale possiamo realmente scoprire tantissime cose. Di conseguenza nel digitale bisogna studiare. Cioè questa è una professione che si può studiare applicando. Perché? Perché vai sui social, studia i social, studia il comportamento delle persone, prova ad aprire una pagina e fa una campagna pubblicitaria su te stesso, lancia di buttali. Quindi è realmente una professione che non ha una grande barriera d'entrata. Quindi questo è un consiglio che do è quello di buttarsi, di provare e come dico io di smanettare. E poi possono riuscirci tutti. Questa è la cosa bella. Assolutamente. Da una parte e poi purtroppo crea anche danni perché vediamo anche delle cose improponibili. Vero, vero, vero. Come hai iniziato? Quali sono i tuoi clienti? Raccontaci degli esempi concreti, diciamo dei risultati sui tuoi clienti. Come hai iniziato? Certo. Allora, intanto vedo live due miei clienti a cui sono molto affezionato, che sono due imprenditori che hanno realizzato una startup fantastica e li saluto. Sono i ragazzi di Nextwin e di Invictus che sono realmente un punto di riferimento in Italia per il mercato delle startup. Io, Elena, ho cominciato a 25 anni, 24 anni, quindi 5 anni fa. A 28, cioè a 30, vabbè. Insomma, siamo... Ho detto 28 anni. Ho cominciato 5 anni fa, quindi intorno ai 23-24 anni. Dopo la laurea in economia e in marketing, ho iniziato a collaborare con una persona che fa, tutt'oggi, quello che è il nostro lavoro. Si chiama Angelo Laudati, ci tengo a ringraziarlo e a salutarlo, che mi ha permesso di iniziare a comprendere questo lavoro. Quindi affiancandolo. Io ho cominciato ad affiancarlo nei vari processi delle campagne pubblicitarie e piano piano ho cominciato a imparare il mestiere. Il suo metodo di insegnamento è stato fantastico, perché come quando insegni una persona a nuotare, la prendi e la butti in piscina. Finché non affoga, non lo salvi. Se sta affogando, lo salvi. Lo ripeti per due o tre giorni, dopo tre giorni, impara a nuotare. Lui ha fatto così con me e così io oggi faccio con i ragazzi con cui lavoro. Bene. E poi, come il tuo può passare da una professione come la mia a anche una professione come, che ne so, un negozio? Ad oggi il punto forte della mia professione è che realmente c'è un mercato di potenziali clienti enorme, perché veramente tutti quanti abbiamo bisogno di potenziare la nostra presenza online. Quindi da un'attrice bravissima come te ha un negozio, per esempio, di lusso, un piccolo negozio di lusso, un grande negozio di lusso, o un negozio che è soltanto digitale, quindi un e-commerce. Tutti quanti abbiamo bisogno di comunicazione online. Quindi il mercato è veramente grande. In questo periodo del covid che so che, insomma, nulla ti spaventa e salutami Rizia, salutami tanto Rizia, la famiglia che è in Casile e praticamente non vedo l'ora che, insomma, possiate ritornare al più presto, poi vi fate la quarantena come giusto che sia e poi, insomma, ci vediamo. Però facci qualche consiglio, anche dei tuoi progetti futuri, che cosa hai in mente, che cosa... se ci sono altre notizie, dalle, perché mi fa piacere che tutti i miei followers possano attingere anche... che si è interrotto una volta, credo che le notizie siano arrivate comunque. Allora, guarda Elena, il discorso della pandemia per il mio settore abbiamo avuto, diciamo, ovviamente all'inizio una grande flessione perché chiudendo le attività, è ovvio che avendo le sale cineschi chiuse, è stato difficile proprio per gli imprenditori sopravvivere e di conseguenza quando un'attività è chiusa la prima voce che si va a tagliare giustamente è quella della pubblicità. Perché? Perché è difficile andare a pubblicizzare quando sei chiuso. Quindi questo è stato l'inizio, è stato il punto negativo. Dall'altra parte però abbiamo avuto un aspetto positivo, ovvero che tutti gli imprenditori che sono riusciti a salvarsi, perché siamo veramente in una situazione tragica, sembra un periodo di guerra, tutti gli imprenditori che si sono salvati hanno capito che per ritornare a livelli passati, quindi dell'anno precedente, avevano bisogno di un qualcosa di nuovo. Quindi molti si sono affacciati per la prima volta al marketing digitale proprio per un'esigenza di fatturato, ovvero il fatturato è crollato, che cosa mi invento? Proviamo a fare marketing digitale, proviamo a chiamare un professionista del marketing digitale. E quindi si sono rivolti a un po', hai visto nella seconda parte di questo 2020 molto complesso. Tante persone ci hanno contattato per cominciare un percorso nuovo e partire con una strategia di comunicazione online. Quindi diciamo che se ci fossero delle persone interessate a voler fare il tuo lavoro oppure, perché no, anche dei clienti. Io spero per te, per il tuo team, se la mia parola, che sono una professionista e con la quale insomma voi con me avete lavorato e io con voi dai tempi dell'ultima fiction di Furore 2, io ti ho dato fiducia perché io do fiducia ai giovani, per me i giovani sono le persone più giovani di me che posso imparare, posso anche, come dire, proiettarmi verso delle cose che magari io sono legata al passato. Allora, Elena, io direi che è arrivato il momento di svelare a tutte quante le persone che ci seguono, a tutte le persone che da tanti anni sono tue fan e ti dimostrano così tanto affetto, è arrivato il momento di parlare di questo progetto che io veramente sono onorato di fare insieme a te, con una professionista come te, ovvero andare a creare quelli che sono dei workshop online nel 2021. Il primo workshop che stavamo pensando di andare a realizzare è proprio questo workshop sulla comunicazione digitale, ovvero andando ad unire quelle che sono le competenze appunto di noi giovani pubblicitari online con quelle che sono le competenze comunicative di un'attrice fantastica quale Elena Rosso. Io ti ricordo un momento, lo sai, come te l'ho detto in privato, così lo dico in pubblico, naturalmente voglio solamente affinare delle cose che naturalmente non conosco, se non sono sicura al 100% non riesco a fare, però sono molto molto interessato a farla, perché credo che secondo me è il momento giusto che le persone possano, come dire, interagire, così come facciamo attraverso una diretta e così magari sempre online dare delle spiegazioni utili perché andiamo per un futuro quanto più imminente possibile che ci faccia ritornare alla normalità. Però come tu dicevi prima, si può fare anche attraverso online, giusto? Esatto, esatto, esatto. Quello che adesso invito tutte le persone che ci stanno ascoltando, che sono interessate a questi temi del digitale, di andare a cliccare, per esempio, sul link nella biografia di Elena o sul mio, o di andare a vedere le stories che mettiamo e metteremo nei prossimi giorni, perché stiamo aprendo, proprio per voi, la possibilità di iscrivervi a questi workshop online che avranno quindi come tematiche di social network, la comunicazione e quindi unire questi due mondi fantastici di Elena Russo e di Niccolò Siciliano. E poi dobbiamo fare, quando ritorni, un po' di appunti, un po' di cose. Certo, certo. Vi daremo molte più informazioni. Stanno persone interessate. Ed è giusto, è bello fare un test di persone che magari possono essere sia, come dire, curiose per quanto riguarda il mio lavoro e interessate, curiose, così come lo possono essere del tuo. Perché sono, secondo me, due mondi che si possono unire. E mai questo momento storico ce lo stanno facendo capire. Perché, insomma, certo la vedo difficile recitare attraverso un testo teatrale, attraverso il web. Però sicuramente tutti quelli che sono gli insegnamenti, tutto quello che io ho imparato, mi farebbe piacere poterlo dare. Fantastico. No, no, sicuramente Elena. Sicuramente appena torno dobbiamo fare una bella riunione e diamo molte più informazioni. Perché secondo me possiamo fare un format fantastico. Bene. Nel frattempo tutte le persone che magari possono essere interessate, soprattutto parliamo delle persone che, insomma, ci seguiamo da tanti anni, le amiche, gli amici. Io ricordo che per il danno che ho avuto del telefonino non ho più numeri di telefono, non so più. Cioè, mi arrivano i numeri, ma non so chi sono i nomi. Ecco, questo per chi magari in questo momento analisa di te, tante persone non hanno avuto risposte da me. Per quanto riguarda te adesso, allora vuoi dirci qualche altra cosa? Oppure vuoi dirci come trascorrerai le tue feste, le vostre feste di Natale? Tu e Rizia. Noi, Elena, rimaneremo qui nel Mato Grosso per Natale, sicuramente. Natale e Natale saremo con la famiglia. Capodanno andremo a casa di amici, sempre nel centro del Brasile, però un po' più a sud. E lì non esiste il Covid? Allora, Elena, qui non è che non esiste, ma nella zona dove ci troviamo noi non è una zona dove il Covid per fortuna ha fatto stragi. Quindi è praticamente tutto aperto. Ovviamente giriamo tutti con la mascherina, però si può vivere, insomma. Non è come in Italia. Lo hai saputo? Che noi abbiamo avuto ancora restrizioni. Hai fatto bene? Sì, sì, l'ho sentito ieri. Hai fatto tantissimo! Hai dato! Hai fatto tantissimo proprio, guarda! Avevo sentito un po' l'odore di chiusura lockdown, allora sono partito in sette furia. sento dei commenti che, insomma, ti incitano alla tua idea del workshop. Questo sicuramente mi fa piacere anche a me, ovviamente devo metterlo un po' a punto e sicuramente fa piacere anche a te. E quindi niente, va bene Nicolo. Allora io ti ringrazio tantissimo. Vediamo se ci sono delle domande, ma poi magari ti arriveranno anche nei giorni a seguire per chi fosse interessato domande, riguardo. Tu sei a disposizione anche perché, ecco, grazie. Vedetemi, c'è nessun problema. I social, puoi stare in qualsiasi parte del mondo e puoi rispondere. Questo è un grande vantaggio del mio lavoro, sì, poter lavorare anche da remoto. Infatti, e nel frattempo ovviamente questa sarà l'ultima diretta dell'anno, come hai anche accennato tu, e sarà la prima diretta che verrà divisa in due parti. Perché c'è stata la prima parte e la seconda parte, però dai, ce lo possiamo permettere perché ci sei tu dietro che sicuramente farai un ottimo lavoro, come lo hai sempre fatto. Io mi fa piacere perché veramente do sempre fiducia a tutte le persone che mantengono la costanza, che sono stabili. E quello è importante. Abbiamo bisogno di stabilità. Abbiamo bisogno di stabilità. Deve essere quella e deve essere, ma anche tra gli amici, anche tra i parenti, oserei dire. Stabilità, continuità, perché abbiamo bisogno. E in un momento particolare, soprattutto come questo, credo che ci voglia insegnare a tutti noi che se abbiamo deciso di voler bene a qualcuno, ci dobbiamo essere. Questo è quello che mi sento di dire. Grazie mille Elena, grazie mille per la diretta e grazie a tutti quanti i nostri amici che ci hanno seguito e ci hanno scritto. Ringrazio veramente tutti. Ho visto un sacco di persone a cui voglio bene online e quindi grazie mille. Grazie, grazie Nicolò. Allora un abbraccio a tutti i libri brasiliani e a Rizia. Da me e a tutti. Ciao Nicolò. Ciao a tutti. Ciao Sere. Ciao. Fantastica come te. Grazie Nicolò. Ciao. Ciao. Poi ci stiamo in calma. Ciao. 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 Ciao.